bello a tutti ragazzi e benvenuti qui sul mio canale io sono luca 7392 bentornati in questo nuovo video unboxing dove andremo ad unboxare l'action figure di Ida and Pierce di watch dogs 1 come potete vedere l'ho trovata da game stop infatti l'ho trovata molto strana come spazio di averla trovata da game stop più che altro è strano averla trovata dato che questa è un figure di un gioco molto vecchio ormai comunque andiamo subito ad unboxarla vi faccio vedere la scatola per bene l'ho pagata 2098 comunque come c'è scritto sulla scatola ho dato la testa del game stop e mi hanno fatto pure lo sconto per fortuna l'ho pagata tipo 16 euro infatti ho approfittato subito appena l'ho vista ho detto è mia comunque come potete vedere questo davanti della scatola ora ve la giro questo è il lato questo è il retro invece come potete vedere ci sta scritto che è di 24 centimetri la statuetta poi vabbè ci sta il solito messaggio nell'odierno mondo perennemente connetto chicago è dotato del ctos e bla 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 vabbè senza ve lo leggiamo andiamo subito a tirarla fuori ce la cercavo da tanto questa fattoletta ragazzi infatti sono proprio contento di essere riuscito a trovarla appena l'ho vista non ci credevo calcola non ci credevo proprio che ci stava da game stop ma che si aprirla un secondo ragazzi calcola non ci credevo anche per farlo effetto eccola qua ragazzi la bellissima statuetta di Aiden Pierce questa è la pedana dove è posata la statuetta e dove c'è scritto dove ci sta il simbolo di Watch Dogs il materiale di cui è fatta la statuetta mi pare che è pvc almeno così c'era scritto comunque andiamo subito a rivedere si c'è scritto qua materiale pvc si mi ricordavo bene guardate il cappelletto come è fatto bene pure il farzoletto la pistola fa tutto molto bene lo smartphone pure sullo smartphone mi pare che c'è il simbolo di Watch Dogs si se non mi sbaglio su smartphone c'è scritto accetto garantito mi pare così vi faccio vedere pure il viso di Aiden Pierce della statuetta come potete vedere gli occhi il patoletto la giacca se vedete bene c'è il golf con la giacca i pantaloni i scarpi ora vi faccio vedere il lato e il vetro il vetro ragazzi il video finisce qua era molto breve spero che vi sia piaciuta l'action figure di Aiden Pierce di Watch Dogs 1 insomma spero che questo unboxing vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like al video e iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e vi saluto ragazzi ci vediamo alla prossima bella a tutti ciao